Gentili telespettatori, buona giornata. È stato fatto un daspo dall'Ucraina a Salvini e Berlusconi. Il Cavaliere ha l'ingresso vietato in Ucraina per tre anni, perché è amico di Putin, grande amico di Putin, quindi viene reputato persona sgradita per le autorità ucraine. E anche per le posizioni sulla Crimea e le idee sulla Crimea. C'è una parte del centrodestra nella lista dei politici sgraditi al governo di Kiev in Ucraina. È il caso dei daspo inflitti dai governi ucraini nei confronti dei politici italiani inseriti in una sorta di blacklist degli ospiti non graditi nel paese a causa delle dichiarazioni filo-Putin sulla Crimea e sul Donbass. La prima, come noto, è la penisola occupata nel 2014 da forze armate in incognito, in realtà inviata da Mosca, in reazione alle proteste di Euromaiden che costrinsero alla fuga il presidente filo-russo Viktor Yanukovych. Dopo l'occupazione fu quindi un referendum tra la popolazione che decise per l'annessione alla federazione russa. Una consultazione, una sorta di referendum, che non è stato riconosciuto da nessuno a livello internazionale. Quindi si presume che il referendum fosse stato pilotato o falso completamente. Il Donbass ancora oggi è terreno di scontro. E così, tornando ai daspo, Repubblica, al quotidiano Repubblica, scrive che nella lista degli ospiti sgraditi vi sono almeno due big della politica italiana. Uno è Silvio Berlusconi, la cui amicizia con Vladimir Putin è cosa nota. Il cavaliere fu oggetto di daspo nel 2015 per tre anni. Il motivo era la sua visita in Crimea assieme allo zar in visita al cimitero di guerra di Sebastopoli e Yalta. Ma altro leader di peso a subire il daspo è Matteo Salvini. Anche lui andò in Crimea nel 2014 postando un video da Sebastopoli in cui definiva regolare e libero il referendum contestato da Unione Europea e dalla Nato, l'Alleanza Atlantica. Anche in questo caso sono ormai noti i rapporti non di amicizia tra Salvini, la Lega e Mosca. Diciamo dei rapporti di amicizia tra il partito Lega e il partito di Putin. Ma non rapporto di amicizia tra Salvini e Putin, dove Salvini aveva il ruolo del ragazzo pompon, del fans, del cheerleader di Putin, ma Putin non ricambiava questo atteggiamento da fan di Salvini. Quindi uno era il tifoso, il fans e l'altro era l'adulato. Ma diciamo che Putin avrà conosciuto Salvini perché gli avranno riferito guarda è uno che va in giro con le tue magliette, uno che ha la tua foto in ufficio, è anche il capo politico di un grande partito, si sono alleati con noi. Beh, insomma, l'accordo era tra Lega e Russia unita e il partito di Putin. Quindi le due cose sono differenti, il rapporto Berlusconi-Putin-Salvini-Putin. Quello di Berlusconi era di amicizia, quello di Salvini sono accordi politici. Poi si era arrivati anche alle... Vi ricordate quel caso tirato fuori dall'Espresso, Gianluca Savoini, presunti finanziamenti russi al partito che poi non sono mai stati trovati da nessun giudice che stanno ancora cercando, ma non ce n'è traccia. Lì poi si ipotizza sia stata una sorta di trappola per incastrare Salvini e farlo fuori dalla politica. Su questo ne sono convinto anch'io. Ma sono tutte illazioni, sono tutte... Tra gli altri che hanno ricevuto il DASPO c'è un secondo big della Lega, come Edoardo Rixi, il deputato del Carroccio, si era regato a Mosca e poi in Crimea, viaggio che gli era costato l'inserimento nella blacklist Ucraina. Rixi che spiega oggi che all'epoca si mosse a tutela delle aziende, da assessore regionale Ligure allo sviluppo economico per dare una mano alle nostre imprese che operavano in quella zona. Secondo Repubblica è ancora in corso il provvedimento di DASPO nei confronti di Vito Comencini, deputato leghista che con la guerra in corso ha tentato di raggiungere il Donbass e lo stesso Gianluca Savoini. Insomma, la politica italiana è veramente incredibile, è una cosa... Non passa giorno che ci siano decine e decine di notizie a dir poco sorprendenti. Se ne sentono veramente di tutti i colori. Io non ho difficoltà realmente ogni giorno a trovare video, notizie da fare per questo canale. Credo che negli altri paesi non sia assolutamente così. Credo che negli altri paesi trovare due o tre notizie al giorno sarà anche difficile. A volte io sono pieno di notizie e ogni giorno 5, 6, 10 notizie le devo schertare perché non faccio materialmente a tempo a raccontarvi tutto. Devo selezionare le notizie più interessanti, le notizie principali da quelle secondarie che sono interessanti anche quelle secondarie ma ci sono dei periodi dell'anno dove ci sono meno notizie e allora si va a parlare anche di notizie locali ma ormai è da parecchi mesi è da settembre scorso che ogni giorno ci sono decine di notizie e sembra che i nostri politici si stiano impegnando per fare del loro peggio perché di questo stiamo parlando. La politica italiana è un livello così basso ma così basso, superficialotto e di poco conto che realmente è impressionante. Sono pochi i politici che si salvano e si possono definire i politici che si possono definire realmente sufficienti sono veramente pochi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti qua su Teleitalia grazie a tutti e buona giornata.